Il Vittoria torna in campo domani contro il Caltagirone, gara infrasettimanale valida per il secondo turno di Coppa Italia. E la partita di ritorno all'andata si è giocato a Caltagirone con il risultato di 1-1. Alla Gesilao Greco quel giorno in tribuna c'era il nuovo tecnico Ezio Raciti che vide all'opera la sua nuova squadra ed in serata firmò il contratto che lo lega alla società biancorossa al posto di Gaetano Lucenti. Da due settimane Raciti siede sulla panca biancorossa ed è riuscito a cogliere due successi importanti in altrettante gare contro Acicatena e Taormina. Ora è atteso da un tour de force in pochi giorni, domani si gioca in Coppa Italia, sabato è previsto l'anticipo di campionato sul terreno del Trecastagni. Raciti ha tutti gli uomini a disposizione, non ci sono squalificati né infortunati. Pisano però rientra da un infortunio, domenica è andato in panchina e ha giocato solo 20 minuti. Garufi non ha fatto la preparazione estiva e sta seguendo un programma differenziato. Sta facendo bene invece l'esterno Mensa, giocatore veloce e duttile e spesso determinante. Bene anche Leone che con Lucenti aveva poco spazio. Raciti gli ha chiesto di giocare a centrocampo dove il vittorio ha pochi uomini ed un organico insufficiente. L'esperimento è riuscito. Domenica scorsa ha giocato come terzo di centrocampo insieme a Scarnato e cresci bene. I tre per la prima volta insieme hanno fatto bene. Nella ripresa è entrato il nuovo arrivato di Franco, proviene dalla C2 e lo scorso anno ha giocato nella San Giovannese. Aveva rescisso il suo contratto e Raciti, che lo conosce bene, gli ha chiesto di venire a vittoria. Domenica, quando è entrato di Franco, Leone si è spostato in avanti ed è andato in gol. Questa vittoria ha molte soluzioni. Quando si completerà l'organico nel mercato di novembre sarà temibile. Ma la rosa sarà sfoltita. Raciti ha stilato una lista di giocatori su cui puntare. La società dovrà fare le altre scelte. La società dovrà fare le altre scelte. La società dovrà fare le altre scelte. Grazie.